Pace a voi. Carissimi, viviamo il Santo Natale con lo sguardo rivolto alla mangiatoia di Betlemme. Nell'ottocentesimo anniversario del primo presepe di San Francesco a Grecio, siamo invitati a guardare Gesù nella mangiatoia. Egli è vero Dio e vero uomo. E il vero uomo prende tutta la nostra umanità e l'umanità l'accoglie in quella mangiatoia. Egli viene a noi per essere il cibo della nostra anima, per essere il nutrimento della nostra mente, per essere la forza del nostro cuore. Carissimi, Gesù bambino è il Dio con noi e noi vogliamo essere suo popolo. Il popolo che gli pasce, il popolo che gli nutre, il popolo che gli consola, il popolo che gli guida nelle difficoltà della vita per arrivare alla gioia senza fine. Natale è gioia. Natale è gioia. Preghiamo per tutti. Per chi questa gioia non può averla perché c'è qualcuno che la toglie, col proprio comportamento aggressivo e violento. Perché questa gioia la possono avere anche quelli che non riescono ancora a riconoscere Gesù come Dio con noi. Gioia è pace. Gioia è pace. Imploriamo la pace. La pace per chi ha nel cuore l'odio. La pace per chi non ha la possibilità di godere dei beni della terra. La pace per chi rischia ogni giorno di perdere la vita per l'odio del fratello. La pace per tutto il creato che vuole cantare all'Altissimo Onnipotente e Buon Signore le laude, la gloria, l'onore e tonne benedizione. Grazie. Grazie. Ciao.